Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono sempre Erika e questo è sempre il Mobile World Congress. Questa volta siamo allo stand di LG perché abbiamo appena provato le cuffie LG Tone Studio che sono delle cuffie strane perché sono anche degli speaker. In sostanza hanno quattro speaker sopra oltre ad avere i normali auricolari quindi voi potete metterle al collo come le vecchie LG Tone e collegarle ad esempio alla televisione o alla console e sentire tutto attraverso gli speaker delle cuffie. Il volume è altissimo meglio di tenere le cuffie perché poi siete liberi non avete niente che che vi pesa. Vibrano un sacco tra le altre cose quindi avete la sensazione di essere praticamente al cinema è meraviglioso. Funzionano appunto come vi dicevo grazie ai quattro speaker al loro interno sfruttano il bluetooth 4.2 per collegarsi ai diversi dispositivi e hanno una batteria da 890 milliampere quindi dovreste usarle agilmente per vedere anche un film molto lungo tipo il signore degli anelli non dovresti avere particolari problemi. Tra l'altro sfruttano una tecnologia sviluppata apposta da LG che si chiama wearable bus per avere dei bassi super potenti quindi il suono alla fine è veramente molto pulito molto nitido e molto potente. Noi adesso cercheremo di imbucarci nuovamente nella sala perché hanno messo oltre al film che è Jason Bourne hanno messo anche come dimostrazione Forza Horizon perché possono essere usate anche con la console quindi possiamo stare tutto il giorno a giocare con Forza Horizon con le cuffie di LG. Ci vediamo al prossimo video ciao a tutti